Nel corso della puntata di oggi, lunedì 28 febbraio, secondo le anticipazioni, al centro ci sarà il tronista Luca Salatino. Il ragazzo ha deciso di ridare spazio ad alcune sue vecchie conoscenze, e questo causerà un certo malumore tra le sue vecchie fiamme. Matteo Ranieri, invece, a quanto pare non sarà presente in studio. La sua corteggiatrice Federica, infatti, sarà assente causa febbre. A colpire Luca e soprattutto Alessandra, che va così ad inserirsi tra Lilli e Soraya. Una nuova conoscenza con la quale Luca farà un'esterna molto interessante, con grande disappunto di Lilli che in una precedente puntata aveva ammesso di sentirsi più presa del tronista. Sossio Aruta e Ursula Bennardo dovrebbero tornare in studio. I due racconteranno come procede la loro storia dopo la drastica rottura di qualche tempo fa che fortunatamente hanno superato. Un modo per il pubblico per rivedere i due volti storici del programma.